Ciao a tutti! In questo video, come avrete capito dal titolo, assaggio gli snack indonesiani. Li ho comprati all'aeroporto di Bali prima di ripartire per l'Italia, perché ci erano avanzate alcune rupie e quindi abbiamo deciso di spenderle così. E sono molto curiosa perché alcuni sembrano veramente buoni. Iniziamo subito ad assaggiare il Bali Sweet Coco. Si trova all'interno di questa confezione di cartone e all'interno c'è questo sacchettino di plastica con striscioline e ricciolini di cocco ricoperto di cioccolato. È un prodotto fatto a mano e assaggiamolo subito. Allora, è molto buono. All'inizio si sente il sapore del cioccolato, poi mano a mano che si mastica si sente molto il sapore del cocco. Davvero delizioso, è croccante, è un ottimo snack per il pomeriggio. Il prossimo snack si chiama Smile Fruit ed è di Doraemon. Sono delle caramelle al gusto di arancia, fragola e uva. Guardate che bella la confezione con disegnati tutti i personaggi del cartone. Non vedo l'ora di assaggiarle. Adesso apro il pacchettino. Beh, forse era meglio se mi separavo un paio di forbici, però... Belle! Guardate, sono delle caramelle incartate. Sopra c'è disegnato Doraemon. E questa qui, dato che è arancione, presumo sia il gusto di arancia. Assaggiamola! Adesso apro la confezione. Ok, questa caramellina arancione. Se le conoscete, il sapore è molto simile a quello dell'elemento, sta alla frutta. Il prossimo snack è il Kit Kat al tè verde. Sinceramente non so se esiste anche in Italia, però appena l'ho visto mi ha incuriosito molto e quindi ho deciso di comprarlo. E adesso lo apro subito e vi dico un po' com'è. Aspettate che si è sciolto tutto, oltre che essersi rotto in mille pezzi. Beh, poverino, ha affrontato un viaggio molto lungo anche lui. Beh, sinceramente a me non piace molto. Sembra un po' di bere il tè verde, ha quel sapore lì, però a me il tè verde non mi fa impazzire. Quindi anche questo qua, bocciato. Poi abbiamo acquistato anche questo snack molto sfizioso. Sono arachidi tostate ricoperte di miele. Quindi dovrebbero essere sia dolci che salate. Sono molto curiosa di provarle. Guardate un po', sorpresa! Mi sono preparata le forbici, perché se le apro male, cadono tutte per terra e faccio un disastro. Ok, ci siamo. Eccole qui. Beh, farvele vedere sarà un problema. Comunque sono le classiche arachidi che ci sono anche qui. Proviamole. Buonissime! Sono sia dolci che salate. Sinceramente il miele non lo sento molto. Però io vado pazza per le arachidi. Quindi questo snack è promosso altamente. Con un bicchierazzo di birra poi. Restando in tema di noccioline, vi faccio vedere quest'altro snack. Si chiama Bali Garuda Chocolates. Che cosa sono? Sono dei cioccolatini con dentro la macadamia, che è sempre un tipo di nocciolina. Ed è veramente buona. E sono tipici balinesi. Infatti, oltre ad esserci scritto grande come una casa sulla scatola, dietro c'è scritto che a Bali Garuda si pensa sia il re degli uccelli. E praticamente ha il corpo metà uomo e metà uccello. Infatti questi cioccolatini appunto dovrebbero avere questa forma qui. Apriamo la scatola. Non so se riuscite a vedere. Scusate un po' per i movimenti. Ecco qua. Come vedete sono solo sei e hanno una forma molto particolare. Non so se riuscite a vederla bene attraverso la plastica, però non fatemeli tenere in mano, altrimenti si squagliano. Adesso apro la confezione e ne provo uno. Beh, in teoria dicono che questo tipo di nocciolina qua, macadamia, è abbastanza pregiata, buona e anche costosa. Wow, bellissimo, guardate! Molto buono. La qualità del cioccolato è ottima, è cioccolato al latte. Però non ho ancora trovato la nocciolina, quindi aspettate. Praticamente io pensavo ci fosse all'interno la nocciolina intera, invece si vede che è sbriciolata in mille pezzi e mescolata con il cioccolato. Comunque è davvero buono. Quest'altro snack si chiama Dodol Aneka Rasa. Come potete vedere sulla confezione è rappresentata una ragazza che indossa un tipico costume balinese e poi è disegnata anche l'isola di Bali. Sinceramente non ho ben capito cosa sia. Presumo siano delle bustine di tè, però muovendo la confezione dal rumore mi sembra più qualcos'altro. Allora, proviamo ad aprire. Voilà! Allora, non so bene come descrivere. Sembrano un po' i biscotti che do al cane. Sembrano abbastanza gommosi, ma non troppo. Comunque proviamo, proviamolo. Sono un po' allivita, mi aspettavo tutt'altra cosa. Oddio, forse è tipo una caramella, una specie di mousse. Ok. Eccolo qui! Pronti? Fa veramente schifo. Sembra un candito gigante, non lo so, ha un sapore indefinito. Me lo giuro è lo snack più schifoso che ho mangiato tra tutti quelli giapponesi e quelli indonesiani. No, non ce la faccio nemmeno a finirlo. Questo qui fa veramente schifo. Andiamo avanti. Come dolcetto abbiamo preso anche questi cioccolatini qui. Si chiamano Crispy Ting Ting. Sono sempre a base di cioccolato e sono un po' una specie di water. Sinceramente, come vedete, ne ho anche già mangiati un bel po'. Allora, proviamolo subito. Ecco qui. Vedete? Un semplice cioccolatino. E' molto saporito e si sentono molto anche le arachidi. Il prossimo snack che vi faccio vedere è molto particolare. Sono le banana chips. Sono praticamente delle patatine alla banana con olio vegetale e zucchero. Allora, aspettate. Sono davvero giganti. E se queste patatine sono saporite come le banane che c'erano a Bali, saranno sicuramente la fine del mondo. Hanno la consistenza delle patatine. Quindi sono abbastanza croccanti. Però, sinceramente, me le aspettavo molto più saporite. Non so se è perché ho mangiato un sacco di dolci e cioccolati che mi confondono il palato. Però, diciamo, buona. Ma me l'aspettavo molto più saporita. Siamo giunti quasi alla fine del video. Questo qui è il Tao Kai Noi. Il pacchetto è sempre molto colorato. C'è disegnato un gamberone gigante. Quindi presumo che il gusto delle patatine sia questo. E niente, adesso le approviamo subito. Apriamo. Queste forbici mi stanno veramente salvando la vita in questa tipologia di video. Perché è davvero complicato. Comunque. Che strane. Oddio. Cos'è? Sembra una specie di alga. Boh, il muschio del presepe. Non lo so. Adesso la provo. Un pezzettino, però. Questa mi ha davvero sorpreso. Hanno un sapore molto particolare. Si sente il sapore del gambero. E penso ci siano anche dei vegetali. Non lo so. Delle spezie. Forse anche il pepe. Forse è un pochino piccante. Boh, è molto particolare. Non mi dispiace. Ma anche questa qui non mi fa impazzire. E poi, per finire, il pezzo forte. Questo Doraemon che ha fatto perdere la testa al mio fidanzato e ha voluto comprarlo ad ogni costo. Come vedete, la confezione è proprio il Doraemon. È in plastica. Qui c'è la bocca che si toglie. E all'interno, vediamo un po'. C'è un mini pacchettino. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Aspettate che lo svuoto. Un foglio per le istruzioni e... Un giochino. Una sorpresa. Ok, adesso vi faccio vedere tutto bene. Appoggio questa. Allora, il giochino non è altro che... Adesso lo scarto. Un ble blade. Beh, il foglio delle istruzioni. Direi che è un po' inutile. E infine il pacchettino con le caramelle. Adesso vediamo... Sempre... Se riesco ad aprirlo. Ok, wow! Sono delle palline al cioccolato. Quindi queste qua mi piaceranno sicuramente. Buonissime! Sono delle caramelle al biscotto al cioccolato. Questo video termina qui. Devo dire che mi sono piaciuti molto di più gli snack giapponesi. Di cui ho già fatto un video. Vi lascio una scheda qui da qualche parte. In ogni caso, mi sono divertita molto anche ad assaggiare gli snack indonesiani. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Mettete un mi piace, lasciate un commento. E noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao! Ciao!